L'Inter abbraccia Barella, arriva a Lugano, conosce la squadra, ritorna a Cagliari e poi martedì partirà per l'International Champions Cup con il resto della comitiva. E adesso però si aspettano gli attaccanti, Alfredo. Non dico che stiamo in ritardo, però bisogna farlo. Sì, l'Inter... No, ma sai, il ritardo è anche comprensibile alla luce delle operazioni con le società che sono coinvolte. Di sicuro l'Inter non molla per Lukaku, ha memorizzato questa offerta importante, anzi importantissima. L'Inter aveva messo in preventivo una spesa di 70 milioni con pagamento dilazionato, ma ha incassato anche nelle ultime ore la preferenza assoluta da parte di Lukaku. Quindi l'Inter non è assolutamente rassegnata, è chiaro che i tempi saranno dilatati, siamo in pieno weekend e adesso magari puoi tornare dalla Roma per Dzeko, ma è una cosa che dobbiamo tenere in piedi pur dovendo lottare con una società come il Manchester United. Le altre sono alternative, sono stati fatti altri nomi in alternativa a Lukaku, ma per Conte sarebbero tutte figure di secondo piano. Non voglio ripetere quei nomi, così come non dobbiamo neanche continuamente valutare e considerare un'opzione Barcellona per l'Auto Romartinez, così come dobbiamo aggiungere che lo stesso Miranda ha confermato nelle ultime ore quanto abbiamo detto sulle opzioni, che lui sta valutando un paio di offerte, che dobbiamo ricordare, sono quelle del Monaco e del Marsiglia. Secondo me oggi in quest'ordine, senza escludere nulla, aspettando l'ultima decisione del difensore brasiliano. Sondigna, se dovesse arrivare Lukaku all'Inter, il rinforzo ideale per sostituire Mauro Icardi, che tra l'altro vive completamente da separato in casa, va bene che sta facendo il ritiro, ma non è neanche un ritiro quello di Mauro Icardi all'Inter, da quello che stiamo vedendo. Sondigna? Sì, per me Lukaku è un grandissimo giocatore come Icardi, sono giocatori diversi, secondo me Lukaku sicuramente se vieni gli darà una mano all'Inter, ma una mano grossa. Mi dispiace per Icardi perché è un giocatore fantastico, mi piace e mi dispiace tanto. Soncini, Cobra, da attaccante da attaccante? Il giocatore è giusto perché è quello indicato dall'allenatore, quindi sicuramente Conte ha in mente come impiegarlo, ha in mente come sfruttare le sue caratteristiche anche per le caratteristiche dei centrocampisti che ha in rosa. Come diceva giustamente Alfredo, l'Inter sta facendo il mercato in maniera perfetta, è normale che poi ci sono delle dinamiche per cui qualche operazione si può un po' dilatare nei tempi, però sta inserendo quei giocatori che permettono a Conte in primis di creare uno zoccolo duro, un gruppo come è riuscito anche nelle sue precedenti esperienze, che poi è quel gruppo che lo ha portato a vincere e a costruire qualcosa di importante. Grazie a tutti!